E' arrivato il momento di svappare, svappo me! La vostra scelta di unire più attività sportive vi sta dando buoni frutti perché il CONI vi darà un riconoscimento particolare. E' vero, proprio domani giorno 24 noi avremo da parte del CONI uno dei più grossi monitoraggi a livello nazionale. Che significa? Significa che i nostri ragazzi che vanno dai 5 ai 12 anni verranno sottoposti a dei test da parte della Scuola Nazionale dello Sport. Cioè verranno dei tecnici, valuteranno i nostri bambini che chiaramente faranno parte ad ogni singola disciplina sportiva. Calcio, tennis, pallavolo, tiro con l'arco, basket. E loro verranno sottoposti a un monitoraggio che non ha nulla a che vedere appunto con la specifica attività. Questo perché? Perché si è individuato nell'arco di questa esperienza che questi bambini che purtroppo sono sottoposti ad allenamenti che vanno dai 5 ai 12 anni, spesso in maniera monotematica, non ha portato a grandi frutti. Quindi sta ritenendo opportuna appunto una politica che il Palacaudium è già adottato da tempo. Cioè poter far vivere sotto lo stesso cappello, come appunto la struttura del Palacaudium, diverse attività sportive. Ci hanno ritenuto appunto folgoranti sotto questo aspetto perché loro stanno portando avanti questo progetto già da diversi anni. Vengono da noi a monitorare questi bambini, ne faranno uno studio a livello nazionale. Quindi domani avremo non soltanto questi esperti coni che verranno a monitorare i nostri bambini, ma anche un bellissimo convegno sull'alimentazione dei giovani. Oggi se ne parla tanto, però molto spesso viene portato dai talk show, quasi come un evento così buttato lì. Mentre domani in maniera tecnica appunto questi esperti potranno illustrare perché far mangiare bene i nostri bambini e cosa ci porterà a questo miglioramento e cosa in effetti sta provocando appunto nella crescita dei nostri ragazzi. E quindi sarà veramente un evento importante. Dopo di ciò verremo candidati all'eccellenza. Questo è un discorso a venire dove in effetti una volta che loro hanno raccolto questi frutti, il nostro Palacadium rientrerà in un prospetto nazionale dove verremo appunto riconosciuti come eccellenza e avremo poi tutti i riconoscimenti e speriamo che questa strada ci porterà soprattutto a dei buoni frutti. Allora domani alle 15.30 tutti i bambini associati al Palacadium dovranno venire per essere monitorati fino alle 17.30. Alle 17.30 circa avremo questo convegno nella sala della legalità, quindi stesso nel Palacadium, per poter ascoltare questi preziosissimi consigli da parte dei tecnici sull'alimentazione dei ragazzi.